a posto presidente l'attivazione è fatta prego possiamo chiamare l'appello allora 10 e 54 e 11 e 54 Armetta assente Costantino assente Cusimano come? Cusimano assente Cusimano è pure assente Gagliotto assente Gottuso assente Fiore assente Megna assente Puma presente presente Sandoval presente Scafide assente Presidente ha la parola postata dalla mancanza del numero non si sente più niente Consigliere Puma A me vi sento? Sì La sera è arrivata domani perché va anche il numero legale Lo deve dire il consigliere Puma Il consigliere Puma forse non gli prende il telefono E come non gli prende? Controllo il microfono se è disattivato Consigliere Puma Dottoressa Dottoressa Mette assente il consigliere Puma l'assumo io la presidenza Non c'è motivo di Se siamo in due Mi sente Dottoressa? Sì Lo sento La sera è arrivata domani Forse io non gli prendo il telefono Sì Però Sto cose fatte Lo puoi chiamare al telefono? No Se sto parlando con lei Come faccio? Ah Dice Ha lasciato la riunione No Ma forse Lui l'aveva Va bene L'ha detto L'ha detto L'ha detto L'ha detto L'ha detto L'ha chiuso Questo è stato Va bene Perfetto Buongiorno Arrivederci Buongiorno Buongiorno